Il caso Roma, rigettato il ricorso sul contratto tra Virginia Raggi e il Movimento 5 Stelle, la sindaca era elegibile. Claudio Mazzola. È valido il contratto pre-elettorale stipulato tra Virginia Raggi, Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. A stabilirlo la sentenza della prima sezione del Tribunale Civile di Roma che respinge il ricorso dell'avvocato Monello. La sottoscrizione del contratto non rientra tra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, spiegano i giudici, che dichiarano inammissibile la domanda di nullità del contratto, in quanto chi ha promosso il ricorso non è titolare di un interesse ad agire. Davide Casaleggio rompe il silenzio, non esiste nessun contratto tra il sindaco di Roma e la Casaleggio Associati, scrive su Facebook, Grillo e Gianroberto Casaleggio nominati nel ruolo di garanti. Sul blog è la stessa raggia a commentare, tanto rumore per nulla, dal Tribunale, Batosta al PD. Le fa eco di Maio, non riescono a liberarsi di noi con la politica, ci provano con i tribunali. Questo conferma la validità di tutte le nostre azioni e quindi va contro tutti quelli che cercano in qualche modo di delegittimare tutto quello che il Movimento 5 Stelle fa, proprio per garantire ai cittadini che i propri eletti in Parlamento facciano quello per cui sono stati votati. Mentre a Palermo, sul caso firme false per la presentazione delle liste alle amministrative del 2012, gli esperti nominati dalla Procura hanno rilevato 200 firme false. Nell'inchiesta 13, gli indagati ex candidati del Movimento che si sono tutti rifiutati di sottoporsi al saggio grafico. Sul fronte interno presentato un ampliamento di russo, la piattaforma legislativa aperta ai cittadini e messa in piedi dalla Casa Leggio Associati, per questo finita al centro di critiche interne. Nessun cerchio magico, ironizza Di Maio, al massimo un cerchio operativo.